Pazza, partenza, continua la gara, nell'ottava frazione, e passano i concorrenti. Scusate! 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 Vediamo già starti, la stessa della 7 al romando, seguito da Enrico Roschetti della Gatti, poi da Barramelli, poi da Arisco, poi da Rocchi, ed infine lasciiamo per la 7 Calogli, Arisco Maurizio, quarta posizione. Questo è il terzetto romando, Carti, Rossetti e Barramelli, poi passi anche Marchesini, passi a Rocchi, passi a Cortellessa, passi a Pulinelli, poi passi anche Nasi, poi vediamo Stefano Datti, Già! Scusate! Chiarti che s'è l'eikido? Grazie. Oh, papà! Non mi porto un ricordo di te, la mia casa è laggiù, non vorrei, non vorrei, non vorrei porti, ma vieni giù, dolore, del mondo, ai miei soldi sto qui, tutto il sole è per me, e non vorrei, lo sai, lasciati mai perché. Siamo la piste, la mia casa è laggio, e non vorrei, non vorrei, non mi porto un ricordo di me, e non vorrei, non vorrei, non vorrei, non vorrei. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Passi anche Persici. Aspetto di sei concorrenti con l'ambula Matera. 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 Hadi, dai, 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 dai. Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.